Termina la fase di preparazione, ti chiedo esordio in Serie B, a che punto è la Juve Stabia? Penso che la Juve Stabia è un buon punto, ci siamo preparati molto bene, abbiamo lavorato molto bene è da tanto che aspettiamo questa partita ora non vediamo l'ora che inizia il campionato perché comunque sia tanto che ci alleniamo e vogliamo ottenere dei risultati già da domenica vogliamo far capire che ci siamo in questo campionato Ecco domenica, subito un test affascinante, subito l'Empoli, primo ostacolo da superare Sì, è un test molto bello, comunque sia, è sempre bello affrontare certe squadre però dobbiamo essere bravi a cercare comunque sia di portare qualche punto a casa Durante la preparazione hai avuto un problema fisico, ora come ti senti? No, sto bene, sto bene, ho lavorato meglio con lo staff, con i fisioterapisti, sto bene ho detto, non vedo l'ora che comincia questo campionato perché non ho potuto giocare neanche la Coppa Italia quindi non vedo l'ora di magari esordire domenica il campionato La settimana scorsa si è operato il capitano Alessandro Mastalli, ovviamente lo aspettiamo tutti al più presto Sì, faccio un grande in bocca al lupo, tale che deve rientrare molto presto perché qui ci manca comunque sia, era un giocatore, una persona importantissima sia dentro che fuori lo spogliatoio e non vediamo l'ora che ritorna La cavalcata dello scorso anno porta anche la tua firma Luca, cosa ti senti invece di dire ai tifosi? No, della cavalcata dello scorso anno lasciamo perdere perché è un anno nuovo ai tifosi niente, che ci seguono magari come hanno fatto l'anno scorso noi diamo tutto per loro, loro danno tutto per noi e speriamo di fare un bel anno